Oggi da questa magnifica e suggestiva tenuta del Cavaliere Mantina che risale dal 1200 d.C. siamo qui a presentare questo bellissimo evento del Cookie Show. Noi stiamo lavorando nell'interesse comunque di promuovere un territorio, in questo caso la periferia di Borgata Costiera. La Borgata Costiera non è solo festa del pane e della pasta, oggi grazie alla Broto Fix, grazie alla sua famiglia, ma grazie a tutto questo staff stiamo promuovendo un'importante iniziativa dove gli attori principali sono i bambini, i diversamente abili e anche gli adulti. Significano grandi e piccini all'insegna comunque della promozione della nostra enogastronomia. La cittadinanza è invitata a partecipare domenica dal 17.30 in poi dove tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza a delle associazioni di diversamente abili. Il nostro obiettivo è quello sicuramente di dare lustro a delle borgate che spesso vengono dimenticate grazie alla famiglia Erbini e a tutte queste persone che siamo qui presenti, che stiamo facendo tutto a titolo gratuito e in maniera con il volontariato. Devo ringraziare anche l'amministrazione comunale che oggi sta pulendo Borgata, la sta preparando in festa. L'obiettivo è sempre quello di lavorare nell'inclusione sociale e noi questo facciamo. Non ci dimentichiamo di nessuno, cerchiamo di lavorare e dare voce a chi non ha mai avuto. L'obiettivo di questo evento è questo e sicuramente questo non è un punto di arrivo ma sarà un punto di partenza. Come famiglia come si vede così unite vogliamo anche essere unite in tutte le nostre attività e questa realtà di famiglia come azienda abbiamo voluto abbracciare questa causa perché crediamo che il cibo non è soltanto il sostentamento del corpo ma che rievoca il passato per proiettare il futuro. E fare qualcosa a favore dei bambini non è altro che appunto mettere nelle loro mente, nella loro vita uno stile che sicuramente farà avere qualcosa di più solido per il futuro. Siamo nuovamente a Borgata Costiera, questa borgata nel cuore della città di Mazzara dove noi abbiamo lasciato un pezzo di cuore con la festa del pane. Siamo qui perché domenica il 21 ottobre ci sarà una bellissima iniziativa Cooking Show organizzata con il patrocinio dell'amministrazione comunale con il contributo del consigliere Francesco Foggia e con le associazioni del territorio che ricordo di ringraziare abilmente uniti e gli sponsor che hanno dato vita a questa bellissima iniziativa. Piazza del Popolo a partire dalle 17.30 sarà animata da spettacoli musicali e da un cooking show, cioè un concorso di cucina aperto agli adulti, ai bambini e ai diversamente abili. Ci saranno tre piatti che verranno premiati e poi animazione musicale. Ringrazio anche Bartolomeo Erbini perché è patrocinata anche da Brodo Fix che sarà uno degli ingredienti del concorso culinario. L'amministrazione comunale è sempre presente a portare avanti bellissime iniziative a sposare idee particolari che permettono di lanciare la nostra città sempre più verso traguardi turistici non indifferenti. La Proloco sarà presente. Io mi pregio di rappresentare come vicepresidente l'associazione turistica Proloco che da diversi anni continua a promuovere il territorio di Mazzara e da circa cinque anni è presente anche a Borgata Costiera. Un grazie quindi all'amministrazione comunale, agli sponsor, all'associazione Abilmente Uniti a tutti quelli che hanno pensato a questa bellissima iniziativa e hanno chiamato anche la Proloco per promuovere questa interessante iniziativa. Noi siamo tra i promotori dell'evento del Cooking Show che già abbiamo presentato per due anni nel comune di Santa Ninfa e che grazie a un coinvolgimento da parte del signore Erbini abbiamo riproposto a Borgata Costiera una località che è ben organizzata molto propensa alle innovazioni e a portare degli eventi innovativi. Tutto ciò è stato anche formulato e gestito da Francesco Foggia il quale si è messo in piena disposizione nei nostri confronti per la realizzazione dell'evento. A tal proposito vogliamo ancora ringraziare il signore Erbini perché è difficile anche trovare degli imprenditori che si mettono così con piacere, con gentilezza e cordialità a favore della propria cittadinanza e del proprio paese. Da due anni portiamo avanti questo piccolo progetto che questa volta grazie al signore Erbini, come è stato già detto e a Francesco Foggia, sta diventando un pochino più grande. Siamo molto contenti di essere in questa location a Borgata Costiera perché per noi è anche un modo per metterci alla prova. Il nostro cooking show è molto semplice si sviluppa con 15 coppie di mamma, figlia o nonna, nipote insomma tutto in famiglia. Saranno dati dei pacchetti a sorpresa con degli ingredienti e loro dovranno preparare un condimento e poi sarà spadellato tutto insieme con una cottura di una pasta che farà il nostro chef Nino. Dopodiché ci sarà una giuria che giudicherà i loro piatti in base al nome, il gusto, le caratteristiche e in base anche alla fantasia. E poi ci sarà alla fine di questa gara, saranno dati dei premi ovviamente e il nostro chef cucinerà una pasta per tutti che verrà comunque assaggiata da tutti quelli che parteciperanno. Ringrazio sempre Francesco Foggia per essersi messo a disposizione e anche il signor Erbini. Buongiorno, mi presento, sono Sebastiano Leo, oppure Nino Leo come preferite. Mi occuperò della parte cucina che mi è stata affidata. Ringrazio per questo il signor Erbini che è l'organizzatore qua a Bocca da Costiere insieme al consigliere Foggia e insieme anche a tutta l'amministrazione comunale che chiaramente si sono spese per la buona riuscita di questa manifestazione. Mi auguro di fare il meglio per poter soddisfare un po' i palati delle persone che verranno a degustare questa spadellata in piazza qua con Brodofic a Borgata Costiera a Mazzara del Vallo. Salve, e con emozione e con un grandissimo onore che sono qui ad aprire le porte della tenuta del Cavaliere Mandina a questa lodevole manifestazione, a questo cooking show che è stato qui organizzato a Borgata Costiera con delle associazioni culturali con le quali sono veramente onorata di collaborare, di partecipare. È la prima volta che faremo insieme un evento ma spero che sarà il primo di tanti altri che si potranno tenere prossimamente proprio qui all'interno della tenuta del Cavaliere Mandina. Siamo all'interno della tenuta Cavaliere Mandina una scoperta a Borgata Costiera, una bellissima struttura ringrazio Rosi Mandina che si è messa a disposizione per la conferenza stampa di questo spettacolare evento. Sono qui anche con Valérie Pellicane che è la presidente dell'associazione Abilmente Uniti. Io faccio parte della Proloco e come Proloco mi spetta invitare tutta la cittadinanza tutti i mazzaresi, ma non soltanto i mazzaresi anche dalla provincia e da altre città limitrofe a partecipare a questa iniziativa. Cooking Show sarà a Borgata Costiera nella centralissima piazza del Popolo a partire dalle 17.30. Vi aspettiamo numerosi a partecipare a questa iniziativa il contributo che sarà devoluto poi in beneficenza per delle iniziative rivolte ai diversamente abili ed ecco per questo do la parola a Valérie Pellicane. Buongiorno, in quanto rappresentante dell'associazione Abilmente Uniti siamo molto fiere di partecipare a questo bellissimo evento che unisce tradizione, cette sociale, gioia, turismo, cultura. In questa manifestazione parteciperanno attivamente i nostri ragazzi che cucineranno anche loro con i loro genitori perché noi crediamo che la persona disabile può e deve partecipare a tutti gli eventi a tutte le manifestazioni che questa bandifica città ci propone. Ringrazio Francesco Foggia che ci ha convolto in questa manifestazione ringrazio Bartolomea Erbine che ci ha accolto in questa grande famiglia Ringrazio Rosi Mandina della tenuta Cavaliere Mandina che ci ha ospitato oggi e speriamo che sarà una grande manifestazione. Sicuramente sarà una grande manifestazione e ringraziamo anche l'amministrazione comunale qui è presente il vice sindaco Silvano Bonanno e soprattutto Francesco Foggia che ha coinvolto tutte le associazioni di Mazzara a partecipare a questa bellissima iniziativa. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti e sono contenta di partecipare a questa conferenza stampa che è nella tenuta Mandina in quale ringraziamo la signora Rosi per la location. Prima manifestazione qui del cookie show spadelliamo insieme a Tellofix che si terrà qui a Borgata Costiera in Piazza del Popolo. Per me è sempre un'emozione essere qui a Borgata Costiera è un proseguimento della festa del pane e della pasta quindi vi aspettiamo giorno 21 qui in Piazza del Popolo a Borgata Costiera verso le 17.30 con gli attori principali che saranno i bambini e i diversamente abili. Grazie. Mi hanno dato questo compito arduo di così andare lì in mezzo a tutti questi 15 equipe o 15 squadre che si sfideranno il 21 quindi domenica 21 ottobre dalle 17.30 e poi con lo spadelliamo. Questo cookie show bellissimo ovviamente ideato tra quello che è il signore Bini Liliana e tutto l'entourage adesso magari posso sbagliare perché non ho una sorta di scaletta pronta però non è un problema perché ne vedremo delle belle come si diceva sulla nostra chat e tanto che io sarò lì come invece il presentatore insieme alla carissima Alessandra andremo anche a supportare quelli che sono i team nel concorso e sinceramente magari se possibile così detto tra virgolette da competente in materia vediamo se riesco così sotto banco ad aiutare qualcuno qualcuno o qualcuna quindi niente cercate di essere tutti presenti domenica vi aspettiamo e siamo contenti di poter dare questo contributo per la città di Mazzara del Vallo e per Borgata Costiera che tutto l'anno con il consigliere Foggia riesce a dare qualcosa quel quid in più grazie l'amministrazione Cristalde è stata ed è sempre attenta a queste attività attività non soltanto gastronomiche ma attività che sono culturali a mio avviso oggi siamo qui a Borgata Costiera ma siamo in maniera particolare presso la tenuta Mandina e di questo siamo particolarmente orgogliosi perché si vede il lavoro che viene svolto e che sta svolgendo la signora Mandina e tutti coloro che collaborano con lei questa manifestazione è una manifestazione importante perché noi abbiamo sempre avuto un percorso positivo dobbiamo dare un sorriso ai cittadini dobbiamo dare un sorriso ai bambini sia diversamente abili che non e con questo supporto di queste signore che sono signore bellissime che sono anche preparate da un punto di vista organizzativo io credo che questa manifestazione sarà un successo quindi grazie per aver dato questa opportunità alla città di Masarevallo che dice? perfetto 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 grazie a tutti